Il contagio da Covid sul luogo di lavoro, diagnosticato con certificato medico inviato all'Inps anziché all'Inail, è una disfunzione che mette a rischio i diritti dei lavoratori, con il mancato riconoscimento dei casi di infortunio da parte dell'Inail. La denuncia arriva dal patronato Inca della CGL di Chieti, che torna sull'argomento a seguito dell'aumento dei contagi dell'ultimo periodo. Giuseppe Visco, direttore del patronato Inca CGL di Chieti, perché è importante distinguere un infortunio da Covid da una malattia semplice? Innanzitutto è importante perché diverse sono le tutele connesse all'assenza da lavoro dovuta ad infortunio oppure a malattia. La malattia ha un periodo cosiddetto di comporto, oltre il quale si può anche rischiare il rapporto di lavoro, cosa che invece non è prevista nei casi di assenza per infortunio, tranne rari casi previsti dai vari contratti collettivi nazionali di appartenenza. Ma la cosa più importante sono le tutele connesse al diritto alla salute, in quanto per quanto riguarda l'infortunio Inail, la stessa Inail può riconoscere dei postumi. Cosa sono i postumi? Sono dei danni che possono essere permanenti, dovuti appunto al contagio da Covid, che possono essere riconosciuti e quindi anche quantificati economicamente, indennizzati tramite un risarcimento in capitale o addirittura tramite anche una rendita mensile. Chi è che può fare questa domanda di infortunio? Ci sono delle categorie di lavoratori che sono più a rischio di altre? Allora, l'Inail ha chiarito che vi è la presunzione semplice per alcune determinate categorie di lavoratori. Innanzitutto abbiamo gli operatori sanitari, cioè tutti coloro che operano in strutture, che è personale sanitaria, operano in strutture sanitarie private o pubbliche. Ma non abbiamo soltanto i cosiddetti operatori sanitari, ci sono anche gli operatori non sanitari, cioè tutti quelli che svolgono comunque la loro attività semistrutture sanitarie, ma che sono addetti al contatto con l'utenza, al trasporto di pazienti o altro. Ma abbiamo anche persone che non lavorano in ambienti sanitari, ma che comunque hanno un rapporto con l'utenza. Penso ad esempio agli addetti vendita, agli bangonisti. Quindi non c'è un elenco predefinito e non è neanche questo un elenco esaustivo. Ma dobbiamo, diciamo così, desumere che vi può essere una presunzione semplice quando il lavoratore ha un contatto con il pubblico. Chi ha già avuto una malattia da Covid può eventualmente pensare di commutarla, trasformarla successivamente in un infortunio? Ci sono numerosi casi di infortuni cosiddetti sommersi. Che vuol dire? Che nella prassi molti medici hanno inviato all'IMSI i certificati per l'assenza dovuta al contagio da Covid. E molte volte non c'è neanche la consapevolezza da parte del lavoratore che il suo contagio da Covid può essere considerato un infortunio. Abbiamo tre anni di tempo per poter segnalare all'INA un infortunio non denunciato. Ripeto, è importante sia per la questione del comporto ma soprattutto per la questione dei postumi. L'infortunio, a differenza della malattia, si possono aggravare col tempo. Quindi se io ho una manifestazione di un postumo, anche dopo sette o otto anni dall'evento, posso chiedere all'INA un riconoscimento, cosa che non è possibile se sono invece in malattia. Noi consigliamo ovviamente di rivolgersi al patronato INC e CGL dove praticamente possiamo intercedere nei confronti dell'INA per poter segnalare l'infortunio non denunciato esibendo il certificato di malattia e il referto della positività al Covid. Per poter segnalare l'infortunio non denunciato